Un saluto dalla redazione di Roma Servizi. Per la mobilità sono terminati ai parioli i cantieri sui binari trambiari di Biale Rossini e Piazza Ungheria, ripristinati i percorsi delle linee di bus 19 NAV 53 e N3D. Da ricordare, a proposito di tram, che restano attive le modifiche per le linee 2, 3 e 19. La 2 è sostituita da bus lungo tutto il percorso, la 3 viaggia con tram tra la stazione di Trastevere e Porta Maggiore e su bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia, la linea 19 è su tram tra Piazza Dei Gerani e Porta Maggiore e su bus navetta tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento. Servizio regolare per i tram 5, 8 e 14. Grazie. Grazie.